Rilanciare il Palavollei e l'intero centro sportivo Le Palme nella frazione di Borgosanta Maria. L'amministrazione comunale di Pineto si affida alla società del Pineto Vollei. Sabato scorso in Villa Filiani la firma per l'affidamento del complesso, fino ad un recente passato gestito, con risultati assolutamente insufficienti, dall'Asi. La convenzione con quest'ultima sarebbe scaduta nel 2013, ma si è riusciti a trovare una soluzione che permettesse il passaggio di consegni al Pineto Vollei. L'obiettivo è rilanciare gli impianti. Il Palavollei è l'unico in Italia destinato esclusivamente alla pallavolo e simulare tra i più giovani di tutte le scuole locali la pratica di uno sport che a Pineto ha una grande tradizione. La sfida per l'amministrazione comunale è ora progettare e riuscire a trovare fondi per l'ampliamento del Palavollei e riportare il Pineto, che milita nel massimo campionato nazionale di pallavolo, nella sua città e non più costretto a migrare a Roseto.